I nuovi positivi al coronavirus, secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, sono 2697. Il numero dei decessi sale a 70 rispetto ai 44 di lunedì. In acquisto martedì il 19 ottobre è stato tra l'altro segnato un nuovo record per quanto riguarda i tamponi processati, ben 662.000 con un tasso di positività che è sceso allo 0,40%. Sul fronte delle regioni la prima per numeri di nuovi positivi era Lombardia, 412, seguita da Lazio e Veneto. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il documento programmatico di bilancio che riporta le misure da inserire nel disegno di legge di bilancio 2022. La finanziaria, che dovrebbe ammontare a 23 milioni di euro, sarà presentata alla Commissione europea. Tra le misure principali che il Governo dovrebbe inserire nel testo di legge vi sono 8 miliardi dedicati al taglio della tassazione per lavoratori e datori di lavoro, un miliardo dedicato al taglio delle bollette energetiche e un miliardo per l'incremento del reddito di cittadinanza. Si prevede inoltre una proroga fino al 2023 del bonus TV, del bonus decoder e del super bonus 110%, ma quest'ultimo sarà valido solo per i condomini. Rimandata invece la questione pensioni, sulla quale il dibattito politico resta aperto. In manovra ci saranno anche il rinvio al 2023 della Plastic Tax e della Sugar Tax e il taglio dell'IVA su prodotti assorbenti per l'igiene femminile, che passa dal 22 al 10%. C'è una buona notizia che riguarda l'Italia? Infatti, secondo quanto affermato dall'Unione Nazionale delle imprese di recupero e riciclo Maceri, nel rapporto 2021 il tasso di riciclo degli imballaggi di carta e cartone in Italia ha superato nel 2020, con 15 anni di anticipo, l'obiettivo europeo dell'85% fissato per il 2035, toccando l'87,3%. Nel contesto globale che ha risentito della crisi pandemica, i 600 impianti di riciclo distribuiti nel nostro paese hanno prodotto 6,8 milioni di tonnellate di carta da macero. Nel quarto trimestre 2020 sono 245.240 le convenzioni notarili di compravendita e le altre convenzioni relative ai mobili. Le compravendite aumentano del 3,2% rispetto al trimestre precedente e del 4,9% su base annua. A renderlo noto è l'Istat. In eccomitanza delle misure adottate per il contenimento del Covid-19 nei primi sei mesi del 2020 si registra un forte calo delle compravendite, a cui però è seguita una ripresa nei mesi estivi a seguito del graduale allentamento di tali misure. Seppur con intensità diverse, la ripresa, sia congiunturale che su base anno prosegue nell'ultimo trimestre.